Sono molto felice di essere qui a nome del SISA perché la solidarietà internazionale e l'amicizia tra studenti, docenti di diverse nazioni e la comune battaglia per la scuola, l'università e la ricerca sono per noi imprescindibili. Essere poi qui all'università Humboldt di Berlino è particolarmente emozionante perché qui nel 2003 molti di noi che oggi fanno il SISA hanno contribuito alla nascita della FESAL, la Federazione Europea del Sindacalismo Alternativo nel Campo dell'Educazione, che è un percorso che in strada e in modi presumibilmente diversi ma dobbiamo riprendere e ricominciare. Quindi emozione, impegno, impegno civile, convinzione che un domani migliore a partire dalla scuola e dalla cultura sia possibile costruirlo.